Sì dunque, siamo domenica scorsa, seconda categoria, Pine Paganella, tanti di voi avranno già visto queste immagini, prima categoria, Pine Paganella, quindi ancora peggio, tanti di voi avranno visto queste immagini, perché sono già girate sul web e via dicendo, io quando le ho viste all'inizio mi è venuto da sorridere, poi ho provato Pena, adesso le vedete la regia, quindi ci troviamo di fronte a un giocatore che praticamente cerca di trarre in inganno l'arbitro, autotirandosi uno schiaffo per cercare un calcio di rigore. Ora, io non sapevo neanche se fare il gancio o meno, perché appunto mi è sembrata una situazione talmente tragicomica, poi però ho pensato che intanto questo giocatore di cui tutti conoscono il nome, quindi è inutile andarsi ancora sopra, ha quasi 30 anni, ha una lunga esperienza alle spalle, si tratta pur sempre di una partita ufficiale tra due formazioni che scendono in campo con delle maglie, che rappresentano una società, con un arbitro, quindi ci vuole il rispetto, secondo me, degli avversari, dei propri compagni di squadra, dello stesso arbitro, di chi guarda la partita, quindi se apparentemente può sembrare un gesto che fa sorridere, secondo me invece non deve far tanto sorridere, perché, ripeto, se sei con gli amici sotto casa, al parco o al mare che giochi a calcio, sei libero di fare quello che vuoi, se però vesti una maglia e giochi una partita comunque ufficiale, che sia di prima, di seconda o di terza categoria, secondo me devi avere un certo tipo di... devi avere un certo tipo di comportamento. Io una scena del genere non l'ho mai vista, non so neanche come ha fatto a venirgli in mente. Poi approfondendo ho saputo che questo ragazzo da una parte scrive alla redazione Ladige che ha pubblicato il video del giornale Ladige chiedendo che il video non venisse pubblicato, che gli hanno rovinato la vita, che sta subendo delle pressioni con la mano sinistra. Con la mano destra sui social fa il fenomeno di questo gesto, facendosi grande con altri che anche lo commentano glorificando questa... Quindi insomma mi sembra che non abbia neanche capito fino a che punto di figura di merda ha fatto. Spero che con il passare del tempo lo faccia e in ogni caso gli consiglio, potrebbe anche pensare di lasciare il calcio e darsi a quello sport che non so se avete mai visto che sono uno di fronte all'altro, si tirano gli schiaffoni e il primo che cade per terra ha perso. Con l'unica differenza è che lo schiaffone ovviamente dovrà darlo a chi di fronte lui e non a se stesso. Grazie Stefano Frigo, questo è il gancio di Stefano Frigo con annessi e connessi ovviamente perché le riflessioni qui che potrebbero aprirsi sono molte e non vogliamo chiaramente attaccare una parte soltanto. Io aggiungo semplicemente che magari anche mandare un video così a un organo di stampa è fatto con il chiaro intento di prendere di mira quella persona specifica. insomma ecco magari questo forse visto che è stato fatto da una società e non da un privato insomma magari ecco su questo si poteva un attimino riflettere maggiormente insomma ecco piuttosto che poi mettere appunto all'agonia qualcuno. Comunque vabbè pazienza, ognuno sceglie di fare quello che è meglio. Io non nego quello che è accaduto insomma però anche chi ha volutamente mandato quel video con un chiaro intento insomma. Ma sì perché poi cos'è che c'erano per chi che avevano accusato tifosi di una parte di essere troppo accesi? Tutto questo è nato perché sul giornale si era scritto che la tifoseria avversaria di questo insomma si era comportata male allora questi perché sentiti si offesi perché appunto così hanno mandato il video per dimostrare perché la tifoseria era così calda nei suoi confronti. Però vabbè insomma ecco. Per carità sono cose che capitano proprio al nostro calcio, ai nostri livelli e questo è anche il bello e questo si chiama calcio agricolo appunto e noi giustamente lo menzioniamo, ne diamo contezza.